buonasera oggi è lunedì 8 novembre vi farò vedere per la prima volta la luce nel forno della stufa economica allora questa è la luce questo è la camera di combustione ok la mia stufa bellissima ok tutte le volte che mettiamo qualcosa nel forno non riusciamo mai a vedere cosa c'è nel forno se la roba è bruciata se la roba quindi molti di noi chi guarda con una torcia chi guarda con una lampadina che col telefonino che mi è venuta l'idea cioè ho trovato questa lampadina questa lampadina che praticamente guardo e vedete e magnetica è una lampadina da lavoro che posizionata qui vi fa vedere cosa c'è nel forno nel mio forno sono delle bellissime mele che praticamente io vedo se sono bruciate se stanno facendo bene se devo girare la roba se ok quindi io ho finito di la posso lasciare anche così va a pile adesso voglio prendere una con la carica usb quelle con che vanno a 12 volt che lo voglio fare andare con il mio pannellino solare quindi li voglio ricaricare insomma a costo zero non voglio utilizzare le pile però per provarlo ero dubbiosa e ho preso questa vedete è una lampada con i magneti cioè i magneti qui sotto che vedete ok e io non faccio più così guardo qui qualcosa sul fuoco che sono due cosciettine di pollo uno strano si vede che hanno fatto un po di vapore quindi torniamo alla nostra lampada ovviamente nei forni a legna non si possono mettere lampadine perché se no si bucca la camera del forno entra dentro la al fumo la cenere contatto coi cibi non va bene quindi io direi che mi riservo il diritto d'autore di questa lampadina con il magnete quindi spengo ok sac ecco la nostra lampadina del forno a legna che nessuno l'ha mai inventata invece probabilmente ce l'ho nel dna a inventare le cose a trovare le cose che mancano quindi voglio vedere cosa c'è nel forno accendo la mia lampadina e cotta la mia roba si è bruciata no le mele no 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 vediamo magari sotto abbiamo qualcos'altro lo spostiamo vedete sotto non c'è niente nel forno sopra bianne le mele che adesso non si vedano più ecco le mele ok quindi io vi saluto prendetevi una lampadina del genere lo trovate ovunque le lampadine quelle da lavoro magnetiche e lo appoggiate sul vostro forno la accendete e guardate tutte le volte come va la vostra roba nel forno le vostre pietanze ok buona visione se vi è piaciuto il video e l'idea mettete un like via un abbracione a tutti e al prossimo video ciao